secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie guarda guarda no Nivor, Nivor Gian Lorenzo, Marco Umberti, Mark, Domenico Capogna, Marco Falcone, Alexander Lex, Eindrex, Astro, Niccolò Aglio Conti non lo mangerei mai quel coso, non mi ispira fiducia no, amore, no, mangia no, amore il nostro cuore è diviso a metà sì, dammi quello di te metà mio, metà tuo mmm è buono è buono che per lei non gioca? che sento lei non gioca? ho un pezzettino 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 tu dino un po' alla ciace piano eh piano eh piano eh con questi occhi piano.. oh, guarda l'abbha un po' a sono la vicino come a vedere a Pekora Belen ma poi c'è il Cazzo brutto a Belen sincero Belen anche non cazzo ha chiesto l'altro è morto uno? ah no ok, scusatemi non avevo colpi GIAVAILER! AAAAAA! FELIBASTIER MARRANO! Bentornato! Registro Mana? Registro anche io? Registro? Aspetta un secondo... Aspetta un secondo... Imposizioni, uscita audio, uscita... Registrazioni... Ok... Recco pure io? Recco? Perché è il mio primo video di YouTube... Ragazzi, adesso fatemi sistemare anche l'overlay... Così Manazza è più comoda... Video... E... OI! Merda! Ma ha fatto... Sono andati bene i due ultimi video di YouTube, raga! Azzo! Brava Manale! Merda! Meno recente... Cos'è il mio primo video di Clash? Sette anni fa, raga! Porca tra... Perché il mio quinto video... C'avevo la faccia! Beniz! In tutto questo casino... Win me le patatine! Arriva Ronny! Figa 100-100 l'ho già persa! Galera maiala che gli leggo ancora le beta a Ronny! Porco diavolo! Andiamo! Hai visto Baio? Tanti auguri! Semplicemente perché sapeva dove eri... È impossibile quello che è appena successo... Io manco l'ho visto piccare! Porca merda! Gesù Cristo! Vedi carne? Oh niente! Ma nazza hai preso quella clip! Secondo me non so che siamo qua! BOOM! L'ho rompato in faccia di Fest dopo mezzo secondo me! C'è chinato headshot! Ah ti ha cechinato headshot! C'è chinato headshot! Seguire buff così abbiamo una pop in meno e non ci abbiamo problemi! Devo salutare il tuo amico Francesco, un saluto abbastanza strambo! Ok! Ciao Francesco! Attenzione! Mi devi dei soldi Luigi adesso! Dentro in 36! Sto capendo se è sopra o no! Un attimo ragazzi perché non è facile! Non sanno niente, ci cercano ma non ho capito! Non ho capito, non ho capito niente! Che madonna se non hanno capito! C'è anche una dentezza di un... Tori Fire, what the fuck! Non hanno capito diceva Xydrone! Hanno capito benissimo! Manazza! Io nemmeno li ho visti! Io nemmeno li ho visti conti! Merda! Senza che lo vedessi! Qua! Questo arriva... Così proprio! Senza neanche... Così raga! Senza neanche muovere la mira! Guarda! Oh! 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 Guarda! Dai raga! Parte da qua! Vai 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 vai! ma vai a fare in culo va ma vai a fare in culo va ma vai a fare in culo va vi seguiamo scuotimi ragazzo è una cosa di lavoro importantissima per una data importantissima sono presi sono presi mi sa che sono presi arrivo ragazzi non ho caricato ma vai a fanculo vai a fanculo vai a fare ma vai a fare in culo va a fare in culo va a fare in culo va a fare in culo pensavo avesse caricato questa merda di arma del cazzo del porco merda e invece non carica un porco di cazzo di niente non carica cristo di dio un effetto similare quantità beh perché quelle senza zucca non ci sono quelle grandi non scopo ma ero ero senza cid ragazzi non scopo che essi difficile come fare non scopo che essi in quella condizione si ma stava guardando per terra qualcosa mi stava misurando gli centimetri del cazzo mi ha preso la che è questa è la ricca di ma bianca non ho beccato ma ma dovante di rilassi dell'uso da zero del pulcino nice wrecking's nice ma oggi si è un botto stavo guardando un altro stavo guardando l'altro schermo mi giro hai ammazzato un letto bene così di uno di uno io di 30 kg non sapete tre fami dai gara diciamo ragazzi che dopo i 40 immagino che mi cambieranno un po di cose e anche a livello proprio di streaming di presenza sui social è ovvio che non potrà essere sempre così non posso fare una vita davanti al computer raga però abbiamo tre anni per diventare forti nella musica che a questi anni ma che a questo io io farei volentieri poi concerti e basta ma io ho pensato anche che se poi deciderò di fare un cambiamento quando sarà il momento e dedicarmi alla musica che comunque è una cosa che mi dà veramente una grande gioia e non è neanche detto che tenga solo un gruppo posso vedere il mio gruppo e continuare comunque a suonare con altre band 60 miliardi di progetti incredibile è ma io non non ce la faccio a non averceli ma c'è troppo poco tempo per non fare cose devo fare tutto che vola dietro e ho sentito un merda abbiamo le build mi ha cecchinato quello davvero merda che disagio che disagio raga bene bene il follow alla pagina io vi vedo edoardo morcaldi buongiorno comi roberto città checco grav samu miglio loc bloc mesco e federic alessandrini salutiamo grazie dark shadow grazie c'è qualcun altro o straga il matte salve anche al torne davide j ita salve giacomo pigazzini alessandro nicola simionato matteo federico martini per la win raga minchia boring prato al vigi blu siamo nel parcheggio di una pizzeria a suonare follia totale e andiamo eeeh merda ah ho dei messaggi privati sulla pagina degli sport un secondo eeeh ahi le il pier merda che beca